in pedano Arnauto Marilena siamo pronti 21 kg partiamo con l'esercizio dello slancio rappresentativa della CUS di Verona pronti 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 grazie prova a fare da per Arnauto Marilena 21 kg, 22 kg 22 kg passaggio andiamo a 25 kg con la seconda prova sempre dell'atleta del CUS Verona Arnauto Marilena 25 kg per l'atleta di Verona grazie 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 prova valida per Arnauto Marilena la seconda prova la terza prova chilogrammi 26 si prepari Tuiri Fatima ripeto si prepari Tuiri Fatima ai 35 kg adesso aspettiamo la terza prova di Arnauto passaggio andiamo a 28 kg sempre per la stessa atleta la sua è la terza prova in pedano Arnauto la sua terza prova con il bilanciere a 28 kg si prepari Tuiri Fatima grazie a tutti e grazie la sua prova varie da perarno andiamo a 35 kg per favore 35 kg chiamiamo in pedana Tuiri Fatima Tuiri Fatima della società ex area di Barcellona Messina si prepari Ellero Raffaella 35 kg prima prova per Tuiri Ok prova varida tu i rifatti ma la prima prova 35 kg in pedana Ellero Raffaella della pesistica Udinese si prepari Cirasa Maria Teresa il lanciere è pronto Ellero in pedana prova valida per Ellero 35 kg in pedana Cirasa Maria Teresa si prepari De Marchi in pedana Cirasa a seguire De Marchi Anna prova valida per Cirasa De Marchi in pedana De Marchi della Polisportiva Santa Bona di Treviso a seguire Cirasa i 36 kg pedana De Marchi prova valida per De Marchi 35-36 kg sempre per De Marchi la sua seconda prova si prepari tu i rifatti ma seconda prova i 36 kg per De Marchi passaggio 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 allora andiamo a 37 kg e chiamiamo in pedana Tuiri Fatima alla seconda prova Tuiri Fatima della Polisportiva Exario 37 kg 37 kg e clana e coi la sua esiree se la sua Prova vale da Pertuiri 38 kg 38 kg La seconda prova di Ellero Raffaella della pesistica udinese Si prepari Cirasa Maria Teresa Pedana Ellero La seconda prova di Ellero La seconda prova di Ellero 38 kg Ellero Per noi Tu sei Ellero Scusa Allora Si si no Sguardo a sto lato Ellero in pedana Prova non valida 38 kg In pedana Cirasa Maria Teresa 38 kg Per Cirasa La seconda prova Si prepari Tuiri Fatima Cirasa In pedana Prova vale da Per Cirasa 38 kg 38 kg Pedana Tuiri Tuiri Fatima Della società Exario Tuiri 38 kg Si prepari Ellero Raffaella Tuiri 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 Passaggio di Tuiri Allora Ellero In pedana 38 kg Ellero Raffaella Della pesistica udinese La sua è la terza prova Si prepari A Brescia Martina Prova valida Perelero 39 kg 39 kg La prima prova Di A Brescia Martina Della società Pesistica Capurso Si prepari Tuiri Fatima A Brescia Prova valida Prova valida Per A Brescia Tuiri Fatima Tuiri Fatima La terza prova Di Tuiri Si prepari Spina Cosma Ismaela Tuiri In pedana La sua terza prova La sua terza prova Prova valida, 40 kg per noi, Spina, Cosma e Smaela in pedana della società body training di Coppertino, a seguire Cirasa Maria Teresa. In pedana Spina, Spina Cosma. Prova valida per Spina, 40 kg Cirasa Maria Teresa. La terza prova di Cirasa, ai 40 kg, si prepari Spina, Cosma e Smaela, 40 kg per Cirasa della Wigley fitting di Caltanissetta. Prova valida, 43 kg, bilanciera, 43 kg, la seconda prova di Abrescia Martina della pesistica Capurso. A seguire Spina, Cosma e Smaela. Prova valida per Abrescia, in pedana adesso Spina, Cosma e Smaela. 43 kg, la seconda prova a seguire Abrescia Martina, ai 44 kg. in pedana spina, Cosma e Smaela della body training di Coppertino. in pedana spina, 4 quadri della stagione, al prova non valida rimaniamo a 43 kg 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 la prima prova di Simeone Simeoni Erika della Wellness Club di Roma a seguire De Marchi Anna 45 kg rimaniamo a 43 kg rimaniamo a 43 kg prova valida in pedana De Marchi Anna De Marchi Anna della Polesportiva Santa Bona di Treviso alla sua seconda prova si prepari Simeoni Simeoni Erika in pedana De Marchi a seguire Simeoni Erika prova valida per De Marchi 46 kg andiamo avanti col bilanciere 46 kg la seconda prova di Simeoni Erika della Wellness Club di Roma passaggio 46 kg rimane così a Brescia Martina in pedana a Brescia Martina della società pesistica Capurso di Bari e poi sarà la volta di De Marchi Anna a Brescia in pedana a Brescia Martina a Brescia Martina Prova non valida, 48 kg, bilanciera, 48 kg, la prima prova di Cavallo Sara della Wellness Center, 48 kg, Wellness Center di Grottaglie, provincia di Taranto, si prepari Simeoni e Erika. Cavallo in pedana. Prova non valida, Simeoni e Erika in pedana, 48 kg per Simeoni, si prepari Cavallo Sara. Simeoni e Erika in pedana della Wellness Club di Roma, seguire Cavallo. Prova non valida, 48 kg, 49 kg sempre per Simeoni. 49 kg per l'atleta della Wellness Club di Roma, si prepari Busco Rita. 49 kg per Simeoni. Assaggio andiamo direttamente a 50 kg. La prima prova di Busco Rita della pesistica Capurso. Cadana Busco Rita, seguire Simeoni e Erika. Pronti. Prova valida in pedana a Simeoni e Erika. Si prepari Busco Rita, questa è la terza prova di Simeoni e Erika della Wellness Club di Roma, con il bilanciero a kg 50 kg. Poi sarà la volta di Busco Rita ai kg 51. Simeone o'llà. Simeone o' prova valida per Simeoni 52 kg per per Cavallo Sara seconda prova di Cavallo Sara della Wellness Center 52 kg a seguire De Marche e Anna 52 kg per Cavallo Grazie prova valida 52 kg pedana di marchi Anna terza prova per la rappresentante della società della polisportiva Santa Bona passaggio andiamo a 53 53 kg la seconda prova di Busco Ritta della pesistica Capurso si prepari Cavallo Sara grazie a tutti prova valida per Busco Ritta 53 kg 54 kg sempre per la stessa atleta e due minuti a sua disposizione e si prepari De Cristofaro Francesca 55 kg 55 kg in pedana allora la prima prova di De Cristofaro 55 kg per De Cristofaro Francesca della Royal Gym a seguire Cavallo Sara grazie a tutti guarda Prova non valida, 55 kg, 2 minuti. 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 Prova valida, 55 kg, in pedana adesso Cavallo Sara, la terza prova. Si prepari Buscorita, i 56 kg. In pedana Cavallo Sara, il wellness center di Grottaglia in provincia di Taranto. Prepari Buscorita. Prova non valida, 56 kg, la terza prova di Buscorita della pesistica Capurso. 56 kg, si prepari Meloni Alice, 58 kg. 57 kg, in pedana Buscorita. Grazie. 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 Prova non valida 58 kg 60 kg Allora La prima prova di Meloni Alice Del centro sportivo dell'esercito giovanile A seguire giunta già da Aurora Al termine di queste due categorie Faremo subito la presentazione Della categoria successiva Che è quella relativa ai più 69 kg E poi effettueremo le premiazioni Prima prova per Meloni Alice Grazie mille Prova vale da per Meloni In pedana giunta Giada Aurora Della società Exario A seguire Puddu Sara In pedana giunta Grazie mille Grazie mille Prova valida Prova valida 60 kg in pedana Puddu Sara Seconda prova per Puddu Sara Si prepari Meloni Alice E 61 kg Passaggio Allora Puddu Sara in pedana 61 kg 61 kg 61 kg per Puddu Sara Perfetto viruses Geniale Perfetto La 생 dream Perfetto Perfetto La Perfetto Grazie mille Prova non valida per Puddu 61 kg rimaniamo così due minuti per l'atleta per ripetere la prova e poi sarà la volta di De Cristofaro Francesca c'è un passaggio andiamo a 62 kg anche Puddu Sara passa a 62 kg con la terza prova di De Cristofaro 62 kg per De Cristofaro Francesca si prepari Puddu Sara per ripetere la prova Prova non valida 62 kg Pedana Puddu Sara Terza prova Per Puddu Sara 21esimo Giovani di Utah Si prepari Meloni Alice Ai 63 kg Adesso la terza prova di Puddu Per Puddu Sara Prova non valida 63 kg 63 kg La seconda prova di Meloni Alice 63 kg No Meloni Paz Ai 65 kg Allora Giunta Giada in pedana Ai 63 kg Meloni Alice è passata a 65 Pedana giunta La seconda prova di Meloni Alice Prova valida 63 kg 64 kg Sempre per giunta Della società Exario 64 kg Si prepari Meloni Alice 65 kg 65 kg La seconda prova di Meloni Alice Del centro sportivo Dell'esercito Sezione giovanile E questa è la volta di giunta Giada Aurora Passaggio Passaggio Allora Meloni Alice In pedana Giunta passa a 75 Meloni Alice Del centro sportivo Giovanile Meloni Alice Seconda prova Prova valida Per Meloni Alice In pedana giunta Giada Aurora Giada Aurora Giunta Giada Aurora Per la sua terza prova Col bilanciera Chilogrammi 65 E poi si prepari Meloni Alice Ai 66 kg Dopo la prova di Meloni Andremo ai 70 kg Con la prima prova Di Galizai Martina Prova não válida 70 kg Il bilanciera Kilogrammi 70 Con la prima prova Di Galizai Martina Delle fiamme Euro di Roma 70 kg Per Galizai Sob prova valida per Galizai 71 per noi adesso per la seconda prova di Martina Galizai del gruppo sportivo delle Fiamme Oro 71 chilogrammi per Galizai intanto chiedo cortesemente ai colleghi al termine di queste abbiamo praticamente tre prove per terminare queste due categorie qui di iniziare a radunare le ragazze della categoria dei più 69 che facciamo prima la presentazione e poi la premiazione passaggio 71 chilogrammi in pedana Meloni-Alice Galizai va ai 72 chilogrammi la terza prova di Meloni-Alice e poi Galizai ai 72 chilogrammi la terza prova di Meloni-Alice prova non valida 72 chilogrammi 72 chilogrammi la seconda prova di Galizai Martina 72 chilogrammi per Galizai 74 chilogrammi per Galizai la seconda prova per la teta delle fiamme e oro di Roma 74 chilogrammi che rappresenta il nuovo tentativo di record italiano nella specialità dell'esercizio dello slancio categoria chilogrammi 63 classe esordienti il precedente di 73 sempre detenuto dalla stessa atleta e poi probabilmente anzi probabilmente sicuramente ritoccheremo anche il record del totale Galizai in pedana atleta atleta ago atleta atleta in pedana Prova non valida, concediamo due minuti come da regolamento all'atleta per ripetere la prova. Intanto prego i colleghi controllori tecnici per gentilezza di radunare le atlete della categoria successiva perché effettueremo prima la presentazione e poi la premiazione. Grazie a tutti. Ecco Galisa in pedana, la sua terza prova dell'esertizio dello slancio, atleta del gruppo sportivo Fiamme Euro di Roma. Prova valida per Galisaia, il nuovo record italiano della classe esordiente della categoria di chilogrammi. Il precedente di 73 kg è detenuto dalla stessa atleta. Nuovo record italiano anche nel totale. Perfetto, adesso in attesa delle stilari verbali andiamo avanti con la presentazione. Grazie. 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 Grazie.